Se vi chiedete chi vi guarda dalle telecamere, quella di cui è dotata l'autostrada, la risposta è noi. Lavoro in un team di 16 persone e 24 ore su 24 controlla l'autostrada e il maxi monitor della sala radio. I messaggi informativi che leggete sui pannelli partono da qui. Vi scriviamo noi. Siamo in collegamento costante con gli ausiliari del traffico, con la polizia stradale, con le centrali di soccorso, per intervenire rapidamente e con efficacia, per risolvere qualsiasi problema. Se c'è qualcuno che si sente male, se c'è un guasto meccanico, se c'è un incidente, decidiamo velocemente che tipo di azione intraprendere. Pianifichiamo insieme ai tecnici le chiusure delle corsie e seguiamo il percorso di trasporto eccezionale. In caso di incidente, coordiniamo anche gli interventi dei carriattrezzi, decidiamo se necessario chiudere l'autostrada e in quel caso coinvolgiamo i vigili urbani per gestire la viabilità esterna. Sono Valentino, operatore al centrale informativo di Autovie Veneta. Con il mio lavoro, apro una via al domani. La sicurezza è un lavoro di squadra di grande responsabilità. Anche tu, con un comportamento corretto alla guida, puoi aiutarci a vincere. Apriamo insieme una via al domani.